Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, nonno Ugo, tanti auguri a te. Quanti anni compie il nonno Ugo? 91! Cosa diciamo al nonno Ugo, la nonna Leda, zio Alberto e nonna? Ciao! Ciao! Manda i baci! Ciao! Buona serata! Tanti auguri! Ciao! Sei grande! Anna, vuoi suonare un attimo al piano per la nonna e il nonno eccetera? Ecco Anna! Why don't you play Imagine? I'll play Earth to Joy. Ok. Tu puoi fare qualcosa con il pallone da calcio se vuoi. In a minute. Saluta. e Thomas nonno Thomas ti fa vedere il suo pallone da calcio che bravissimo fai un bar calcio al pallone wow dai salutava la scimmia ciao ciao Ugo tanti auguri ciao Ugo auguri